Il tema del lavoro e delle morti bianche è un tema di cui si parla sempre, attuale più che mai in quello che è il più grande cantiere d'Europa, quello dell'Aquila, che per 12 anni era stato immune in qualche modo da incidenti gravi sul lavoro e che ora invece fa i conti con le prime due vittime, gli operai a San Pio delle Camere, travolti dalle macerie di un edificio che per 12 anni era rimasto così, senza interventi di ricostruzione, quelle mani preziose di operai spesso invisibili in cerca di stabilità e lavoro in città. C'è un'inchiesta ovviamente per accertare la verità sulla morte di Christian Susano e Svede Uzeiri per capire se si sia trattato di una tragica fatalità o se ci sono responsabilità. Per ora l'unico indagato è il titolare dell'impresa che stava effettuando i lavori, Marcello Aloisio, un atto dovuto per eseguire le perizie. Sia la ditta stessa che l'ufficio speciale per la ricostruzione si sono messi a disposizione per collaborare. Domani ci sarà anche l'autopsia sui due sfortunati operai del medico legale Giuseppe Calvisi per poter poi restituire le salme alle famiglie. Le dichiarazioni del segretario generale della filia CGL Riccardo Zelinotti. La segretaria della filia CGL della provincia dell'Aquila esprime solidarietà alle famiglie dei lavoratori coinvolti nell'incidente di San Pio delle Camere. Purtroppo siamo costretti a lanciare l'ennesimo credito di allarme affinché vengano intensificate le attività di vigilanza e controllo per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro. Ancora una volta siamo costretti a sottolineare che la sicurezza sul lavoro deve essere considerata un investimento e non una spesa. Deve essere considerata un prerequisito e non una variabile dell'organizzazione del lavoro. Gli ordini competenti stanno facendo le indagini dovute e stabiliranno la dinamica, le cause e certamente la responsabilità di ciò che è avvenuto. Nel frattempo chiediamo rispetto e giustizia per i nostri lavoratori e le loro famiglie. Di lavoro si deve vivere, non morire. I sindacati chiedono che dopo 12 anni non si allentino le misure di prevenzione, ma è altrettanto ovvio forse che edifici rimasti a lungo senza ricostruzione e con potenamenti di 12 anni fa ormai non possano essere più considerati sicuri.